in questa puntata vi vorrei parlare di un autore di un mangaka che ultimamente è stato riscoperto in italia dopo una piccolissima parentesi sperduta e quasi mitologica sto parlando di ideshi ino la mia intenzione è quella di introdurre l'autore dare gli strumenti necessari per capire il contesto dove ha vissuto e come questo ha poi influenzato le sue opere infine parleremo dei volumi arrivati in italia e delle mie impressioni post lettura ideshi ino è considerato in occidente un autore cult dell'horror giapponese la premessa delle premesse è ripetervi per l'ennesima volta che il mio gusto non mi porta ad essere il più grande fan del genere horror e quindi opere che per alcuni possono essere dei capolavori assoluti io invece le vivo le leggo e le ricordo con maggiore di stacco all'inizio ho parlato di una riscoperta avvenuta in italia di quest'autore e anche di una parentesi sperduta e mitologica perché perché ideshi ino è stato uno dei primissimi mangaka arrivati in italia era il 1992 e ci pensò telemaco comics che pubblicò la sua opera più famosa cioè visione di inferno panorama of hell un volume unico ed è stato anche l'unico manga pubblicato da telemaco comics che per il resto nella sua breve parentesi di vita si è concentrata sulla pubblicazione di opere occidentali molti anni fa sapevo dell'esistenza del volume che però non avevo mai visto né mai toccato con mano ed avevo quindi iniziato a spulciare un po informazioni sull'autore e mi ero fermato a quello la voglia di leggerlo era quindi cresciuta tantissimo sempre di più ma all'epoca le pochissime inserzioni che trovavamo su ebay vendevano il volume anche a più di 100 euro grazie ad un fumettaro veramente gentilissimo sono riuscito però ad avere in prestito il volume di telemaco comics toccavo il cielo con un dito anche se devo dirvi che ero preoccupatissimo cioè avevo paura di rovinare un oggetto così prezioso e non potevo però immaginare che la lettura mi avrebbe poi lasciato insoddisfatto era sì qualcosa di strano diverso dal solito ma non avevo affatto breccia nel mio cuore ero caduto quindi nella trappola dell'attesa del desiderio così spasmodico e avevo posto l'asticella troppo in alto e alla fine ero rimasto scottato dalla dalla lettura e quindi ero profondamente deluso a distanza di veramente tanto tempo sono qui a raccontarvi la storia di quest'autore e anche la mia opinione che piano piano si è modificata nel tempo e in parte ho totalmente ribaltato quel mio ricordo basato sulla lettura del volume mitologico di telemaco comics e inoltre era basato anche sulle poche storie brevi che ero riuscito a trovare su internet ma come sempre procediamo pregradi e ricominciamo dalla vita di quest'autore il descino nasce il 19 aprile del 1946 non è passato neanche un anno dalla fine della seconda guerra mondiale lo strazzo della guerra e delle bombe nucleari segnerà in modo indelebile la vita dell'autore e anche ovviamente la vita di tutti i giapponesi e influenzerà anche le sue opere ma dov'è che è nato il descino non è nato in giappone ma in manciuria che è un territorio cinese incassonato tra il confine coreano e quello russo ed è un territorio che all'epoca era stato occupato dai giapponesi durante il loro espansionismo coloniale ino quindi è nato in un territorio occupato poco dopo la fine della seconda guerra mondiale e quindi anche della seconda guerra sino giapponese nacquero tantissimi movimenti civili cinesi che avevano l'obiettivo di scacciare dai propri territori i civili giapponesi la pressione fu tale da imporre i nipponici a trasferirsi e tornare quindi sull'arcipelago così accadde anche al piccolo idescino e alla sua famiglia che addirittura rischiarono nel tragitto di rimanere uccisi ma non a causa del popolo cinese inasprito dalla guerra ma dagli stessi concittadini giapponesi dopo le scuole superiori ino cambiò molti lavori lavorò in un negozio di pesci tropicali in una stamperia fece l'addetto alle pulizie e tanti altri impieghi nel frattempo frequentò una scuola di fumetto il suo immaginario fu influenzato notevolmente da tre grandi autori da una parte yoshia rutsuge e kazuo mezu che in italia abbiamo già conosciuto in questi ultimi anni grazie a tantissime case editrici per yoshia rutsuge in primis coconino e canicola mentre per kazuo mezu possiamo dire grazie a ikari e a star comics ma poi dall'altra parte c'è anche shikero sugiura autore ancora inedito in italia ma che spesso mi ritrovo a citare proprio perché è stato un punto di riferimento per tantissimi altri artisti ed inoltre è un autore che vi ho già mostrato su questo canale attraverso un video acquisti mag alternativi per via del volume uscito in lingua inglese dal titolo last of the moicans grazie a questi autori ino riuscì a capire che il fumetto era il mezzo artistico ideale adatto per potersi esprimere altre letture giovanili di dashi ino erano ovviamente i manga di tezuka ma anche ad esempio quelli di eichi fukui e in particolare iga gurikun che è una storia del 1952 cito questo manga perché bubbles ha annunciato che pubblicherà la versione inglese di questo volume e che dovrebbe uscire alla fine del 2022 di bubbles abbiamo già parlato numerose volte sul canale youtube ed inoltre vi ho anche mostrato un manga pubblicato da questa casa editrice cioè bat kid che è il primo manga edito da bubbles come dico sempre è affascinante vedere come queste ricerche si vadano poi sempre ad intersecare in modo perfetto l'una all'altra e quindi mentre approfondisco la storia di descino mi ritrovo ad avere a che fare con una pubblicazione di cui vi ho già accennato qualcosa sempre su questo canale ma per dei motivi totalmente diversi ed escino esordì poi nell'ottobre del 1967 su com rivista leggendaria di cui abbiamo parlato a più riprese su questo canale ed esordì con una breve storia intitolata sudore freddo aveva solamente 20 21 anni successivamente però riuscì a pubblicare alcune storie anche per la mitica rivista garo ma per ragioni economiche presto si dovette spostare verso altri casi editrici più popolari più famose una di queste storie pubblicate su garo è stata anche la prima ad avere la firma di ideshi ino dopo le in parentesi quindi su com e su garo negli anni 70 ino si spostò su riviste dal target shonen come quelle edite per l'editore shonen gao le storie uscite su queste riviste erano meno splatter e un po più vicino ai temi della fantasia e del folklore rispetto alle storie che possiamo leggere adesso sul mercato italiano era quello ed è il mix che l'autore preferiva in assoluto ma per ritagliarsi il giusto spazio all'interno del mondo del manga dovete diciamo scendere a compromessi e regalare ai fan quello che volevano da lui cioè un horror sempre più scioccante all'epoca non faceva uso di assistenti il suo ritmo non era elevatissimo e i lavori iniziarono quindi a scarseggiare e mentre nascevano e crescevano a dismisura le riviste di manga ino si ritrovò ai margini di questo mercato ed iniziò quindi a pubblicare le sue storie direttamente in volume tankoball senza passare per la serializzazione su rivista il guadagno però rimaneva insufficiente e quindi stremato ino decise di pubblicare il suo ultimo manga visione d'inferno il suo manga che doveva essere quello definitivo era il 1982 in questi tribolati anni fondamentali furono per il mangaka le case editrici ripusciobo e ibarisciobo la ripusciobo aveva come target un pubblico un po più attrazione femminile ed il contenuto doveva essere di puro intrattenimento in giappone c'è una lunghissima tradizione di opere e di autori horror dedicati ad un pubblico femminile ed anche ino in parte ricade quindi fra questi ibarisciobo è invece una storia completamente diversa che vi invito a ricostruire su internet oppure nella postfazione dell'edizione italiana di dinit di visione d'inferno quello che ancora oggi rimane probabilmente il suo capolavoro in realtà non rimase a lungo il suo ultimo manga ed anche in italia sono arrivate sul mercato opere successive al 1982 la crescente attenzione intorno alle riviste horror fece proliferare nuovamente la voglia di esplorare questa nicchia di cui ino faceva parte e quindi l'autore riuscì a proseguire a riprendere con una serializzazione un po più periodica un po più sostenibile anche economicamente e quindi iniziò anche a circondarsi di qualche assistente diventando poi un autore molto prolifico con veramente tantissimi volumi all'attivo si parla di più di 200 volumi all'attivo ma anche più di 400 storie uniche originali all'attivo a cavallo col nuovo millennio ino è stato chiamato ad insegnare manga in varie università e da più di 20 anni ha ormai abbandonato forse chi lo sa definitivamente la carriera da mangaka un elemento secondo me non da escludere nel racconto della biografia del mangaka è il suo pensiero politico ino infatti è profondamente anti americano nazionalista tradizionalista profondamente affascinato da mishima tanto da pensare di potersi arruolare tra le sue milizie inoltre ino è favorevole al pacifismo però ottenuto attraverso l'armamento nucleare di tutti quanti perché come conseguenza in questa sua visione il fatto che tutti i paesi abbiano un'arma nucleare risulterebbe alla fine un deterrente per entrare in guerra proviamo ora però ad incastonare i dei sci ino all'interno del pantheon degli autori horror che abbiamo conosciuto in italia proviamo quindi a capire le caratteristiche principali delle sue opere l'horror di ino è in netta contrapposizione con quello di kazu umezu l'horror di umezu è concettuale psicologico più sentimentale mentre quello di ino è fisico fortemente legato al body horror corpi che marciscono cannibalismo violenza omicidi torture aghi vermi tentativi infiniti di provocare disgusto disegnando piatti sicuramente deliziosi ma che sinceramente non proverò mai in vita mia e poi buboni pronti per essere schiacciati escrementi odori nauseabondi e anche cisti abbonda lo splatter mentre è quasi sempre assente la vena erotica che invece abbiamo visto essere usuale in molti autori horror come ad esempio in suo hero maruo tutto è raccontato quasi sempre in modo semplice ed alcune volte ci ritroviamo a leggere delle vere e proprie fiabe nere sembrano e alcune volte sono proprio delle fiabe che venivano raccontate oralmente nella tradizione giapponese e che ino riesce a rendere ancora più crude disegnandole i suoi manga sono inoltre pieni zeppi di spunti autobiografici nel solco della tradizione del manga di lio del manga del se di yoshi arutsuge alcuni lo considerano un autoreghe kiga ma è lo stesso ino che ne prende le distanze pur non negando di esserne profondamente influenzato come abbiamo già accennato ino infatti dice che il gekiga enfatizza storie più elaborate e rivolte ad un pubblico maturo che sono all'opposto rispetto a quelle che lui ha pubblicato spesso ino fa uso di un narratore esterno questo alcune volte introduce e conclude i racconti e si limita a questo altre volte invece descrive attraverso didascalie quello che accade e le azioni che compiono i personaggi o i loro pensieri è un modus operandi che non mi fa impazzire devo dire preferisco quando il disegno riesce a spiegare tutte queste cose ma che quando usato nell'intro e nella chiusura devo dire che alla fine dona un bel po di lirismo al racconto di turno le storie nella maggior parte dei casi vengono caricate di tensione di pagina in fino poi ad arrivare al finale che esplode in una maniera che io dico tarantiniana dominata quindi dalla violenza dallo splatter solamente l'amore ogni tanto raramente riesce a porre freno a questa violenza a causa del target delle sue opere che erano prevalentemente dedicato a un pubblico di giovanissimi di bambini i suoi personaggi principali nella maggior parte dei casi sono dei bambini appunto e questi al contrario di quanto mostrato ad esempio da umezu non sono di bell'aspetto ma invece tendenzialmente risultano essere ripugnanti ancor prima che una qualsiasi maledizione o tragedia si abbatta su di loro sin dall'inizio non sono appartenenti a quel mondo kawaii che in un certo senso umezu aveva ripreso durante la lettura delle sue opere il realismo deve essere accantonato tutto può potenzialmente accadere anche dopo la spiegazione dello status quo iniziale cioè è ovvio che in un manga fantastico in un manga fantasy in un manga distopico eccetera eccetera ci sia un incipit non realistico no che non appartiene al nostro mondo e questo è banale ma partendo da quel punto di vista da quell'incipit l'evoluzione può comunque essere logica rispettando determinate regole ecco questo non è il caso non è il caso delle opere di ino anche questo aspetto non è propriamente di mio gusto ma sicuramente ino in molti casi non aveva minimamente l'intenzione di costruire storie logicamente sensate era il suo obiettivo sin dall'inizio ed è palese è per questo che è difficile poi rimanere delusi perché è chiaro sin dal primo dialogo sin dalla prima pagina il disegno è caricaturale non realistico quasi sempre fa uso di matita inchiostro e nulla di più spesso abbondano i neri e poi il disegno lavora per sottrazione cioè come se la pagina fosse completamente nera e il disegno venisse posto sulla pagina in negativo quindi togliendo il nero che è già stato posto gli sfondi sono abbastanza basilari mi ricordano alcune volte quelli di tezuka per quanto riguarda il disegno degli esterni delle costruzioni mentre per gli interni ho pensato alcune volte a zuge e anche ad abbe ma in generale il risultato è comunque totalmente diverso da questi attori e se vogliamo non me ne voglia anche un po più amatoriale in italia tolta l'esperienza di telemalco comics di cui avevo già parlato ad inizio puntata le case editrici coinvolte nella pubblicazione delle storie di decino sono dinit da una parte e in your face comics chi poteva mai portare sul nostro mercato un autore del genere chi poteva mai riscoprire questo autore a distanza di quasi 20 anni anzi più di 20 anni quasi 25 ovviamente ci ha pensato dinit con tre opere molto significative di quest'autore bug boy hell baby e la riedizione di visione d'inferno le tre opere ora sono disponibili anche in cofanetto successivamente si è inscrita però anche in your face comics casa editrice da sempre interessata ad autori che ruotano intorno al mondo dell'horror la casa editrice di aprilia ha per il momento pubblicato red snake la donna delle nevi onimbo che l'unica opera non in volume unico ma in due volumi living corpse black cat e anche mandala from hell recentemente però ha anche annunciato altre opere banchetto di sangue lo spettro di rashomon insetti infernali maschera di morte e dara la strega 5 nuove opere di decino un elenco veramente invidiabile anche se purtroppo le edizioni non sono facilmente accessibili per via del prezzo non proprio popolare entrambe le case editrici propongono questi volumi imbrossurati con alette dinit però utilizza il formato classico della colonna showcase 17 per 24 mentre i volumi di in your face comics sono più piccolini in 15 per 21 non ci sono sovracopertine la stampa risulta secondo me migliore nella versione in your face comics a causa della resa migliore dei neri e del contrasto con le pagine più bianche che compongono insomma le edizioni di in your face comics i volumi showcase risultano però più maneggevoli più facilmente maneggiabili prima di proseguire col racconto delle singole opere e delle mie impressioni torniamo alla fine degli anni 80 e inizio anni 90 e andiamo in america esattamente come in italia telemaco comics pubblicò visione d'inferno anche in america negli stati uniti c'è stata una casa editrice che fece lo stesso si tratta di blast books che pubblicò nel 1989 la stessa opera col titolo panorama of hell successivamente pubblicarono in monografico anche el baby che è arrivato in italia sempre grazie a dinit nella colonna showcase oltre a queste due opere di ideshi ino pubblicarono anche un'opera di maruo fine non pubblicarono altro in monografico tra le varie stranezze di queste scelte un'ulteriore particolarità fu la decisione di far uscire quel manga con il senso di lettura all'orientale non specchiato ma con copertina stampata comunque all'occidentale probabilmente fu il primo manga stampato in modo non specchiato ma questo insomma bisognerebbe poi scavare un po più a fondo per capire se effettivamente così oppure no su youtube tra i video acquisti manga alternativi vi ho mostrato anche il volume in lingua inglese comics underground japan sempre edito da blast books il volume è una raccolta di storie brevi e una di queste è scritta e disegnata proprio da ideshi ino è un breve racconto dal titolo palla che ride e narra la storia di un clown che ride in continuazione e fa ridere tutti la sua risata è contagiosa ma è anche vero che è una maledizione il clown infatti avrà sempre una faccia sorridente e riderà sempre in qualsiasi contesto non può fare altro e questo ovviamente sarà un boomerang per il protagonista purtroppo non so dirvi l'anno di pubblicazione in giappone di questa storia ma posso dirvi che il tratto di 10 ino è molto pulito meno volutamente rozzo ma la struttura della storia è sempre la stessa chiusa questa parentesi americana torniamo alle pubblicazioni italiche i volumi sono arrivati sul nostro mercato ovviamente non in ordine cronologico ma io proverò a raccontarveli in ordine anche se purtroppo le edizioni italiane non sempre riportano l'indice completo di tutte le informazioni secondo me necessarie cioè completo anche di data di pubblicazione in origine in giappone e anche magari la rivista su cui sono state pubblicate e quindi probabilmente scusatemi ma commetterò qualche errore in questa operazione di riordinamento di tutte quante le sue opere inoltre alcune di queste opere sono delle raccolte di storie brevi storie brevi pubblicate in tempi diversi e quindi insomma sono anche un po' difficili da collocare partiamo dalla prima opera e si tratta di bug boy pubblicato a maggio del 1975 da i bari sciobo è una storia unica che racconta la vita di un giovane bambino e studente dal nome sanpei sanpei è un po' emarginato un po' problematico ma buono viene bullizzato a scuola e maltrattato a casa un giorno viene punto però da un insetto e pian piano si trasforma in un bug boy i genitori lo rinchiudono nella sua stanza preoccupati da cosa dalle male lingue che potrebbero circolare nel vicinato se vedessero il povero corpo di sanpei e come ridotto dopo la puntura di quell'insetto il figlio e quindi si trasforma in un peso è un disturbo è un impiccio non può quindi mancare un finale tarantignano con sanpei che griderà vendetta questo è forse uno dei volumi più sempliciotti più basilari nel loro modo di essere raccontati ma comunque è sempre tremendo e in un certo senso anche divertente purtroppo passiamo ora alla seconda opera si tratta di black cat edito in giappone nel 1979 da ripu shobo il narratore di questa storia è un gatto nero cresciuto da solo in una discarica ma che curioso per natura si avventura nel mondo degli umani nella città attraverso il suo sguardo possiamo quindi osservare tutti gli orrori e i tormenti della nostra specie questi però non turbano minimamente la vita del gatto lui continua ad osservare prima di tutti guardiamo un clown che alle porte di un circo stacca biglietti per poter entrare come tanti altri suoi racconti cioè di ino finisce in una maniera talantiniana poi un fumettista misterioso che per tanti aspetti mi ha ricordato l'artista di visione d'inferno di cui dopo parleremo qui ino gioca tantissimo con quell'horror che tenta di provocare disgusto in continuazione nel lettore è comunque veramente molto carina l'idea segue poi la tragica storia di un bambino che si è particolarmente affezionato ad un cane e vive solo con la madre madre che presumibilmente vende il proprio corpo per sopravvivere almeno fino a quando non riesce a trovare un uomo da sposare uomo che però entra in contrasto con il cane e questo crea una serie infinita di cattiverie che sfocia poi nel solito finale di tarantiniana memoria e 2 molto carino il capitolo finale basato sulla storia di una coppia di anziani che fanno fatica a sopportarsi ma che nel litigio continuo hanno creato un legame indissolubile che li unirà anche nella tragedia è un volume spesso questo di black cat circa 240 pagine che ripete sempre lo stesso schema dopo l'incipit il gatto incontra una famiglia e la osserva nel capitolo successivo nuova famiglia nuova tragedia nuovo trauma e il gatto ancora lì che li osserva e così via nonostante questa ripetitività e nonostante ino quasi rinneghi le sue opere pubblicate in origine da ripusciobo io ritengo questo volume uno dei più piacevoli da leggere passiamo ora al terzo volume mandala from elle pubblicato nel giugno del 1982 sempre da ripusciobo sul giappone un tempo regnavano i demoni orientali ma un disastro mise a repentaglio la loro civiltà i mostri quindi si rifugiarono sottoterra la loro rinascita quella dei demoni è nelle mani di mandala che è la figlia del boss dell'inferno a lei sono stati affidati due occhi magici intanto la civiltà umana si è sviluppata sull'arcipelago e mandala quindi si intrufola nella comunità umana apparentemente è una bambina e quindi che cosa fa mandala frequentano a scuola e mentre la frequenta cerca di ritrovare uno dei due occhi magici che aveva perso per strada una delle particolarità di questo volume è l'ambientazione scolastica che si era solamente intravista nelle primissime pagine di bug boy le dinamiche rimangono però sempre le stesse bulletti da una parte e dall'altra invece le prime amicizie speciali rimangono tutti gli elementi classici del loro ordino partendo dal tentativo di provocare disgusto attraverso il cibo passando per un protagonista repellente ed arrivando poi ad un finale tragico e convulso ho trovato particolare il tentativo di mettere a contrasto i demoni orientali con quelli occidentali la quarta opera di cui dobbiamo parlare è il già pluricitato visione d'inferno uscito per i bari sciobo ad agosto del 1982 ecco qui ci troviamo di fronte a quello che viene considerato da tutti il capolavoro di deshiro ed io devo dire che non posso che concordare dieci anni fa la prima lettura di questo classico fu una coccente delusione non riusci in alcun modo a coinvolgermi oggi dopo la quarta lettura mi sembra un'opera completamente diversa rispetto a quel ricordo il volume di in it è impreziosito poi da due meravigliose interviste che riescono a dare numerose chiavi di lettura al lettore sono extra veramente preziosissimi apprezzatissimi stupendi il volume racconta la storia di un pittore ossessionato dal sangue che attraverso la rottura della quarta parete racconta al lettore di se stesso e della sua famiglia è un viaggio attraverso le loro ossessioni grottesche e disgustose probabilmente scioccanti non c'è spazio per l'umorismo come vediamo in altri grandi esponenti del genere horror giapponese c'è un pizzico di sadismo e tantissima rabbia che sfocia in un finale perfetto che era l'unica cosa ben chiara rimasta nella mia memoria all'interno del manga non avevo mai letto niente di simile e ancora oggi a distanza di anni ripeto la stessa cosa non ho mai letto niente di simile voglio approfittare e leggere l'introduzione di questa storia cioè i primissimissimi balun questa è la storia di un pittore privo di fama che ossessionato dall'odore e dalla magnificenza del sangue è precipitato negli abissi dell'inferno e la sua confessione raccapricciante pervasa di follia e vi farà accapponare la pelle e poi parte questo pittore e ci dice io sono un pittore un pittore infernale posseduto dalla bellezza e dal colore del sangue in questa stanza dove non batte il sole chiudo tutte le imposte e passo il mio tempo a realizzare immagini di inferno dipinte con il sangue la cosa più bella di tutto il creato è il sangue si è il colore del sangue avanti ammira il mio corpo è pieno di tagli affondo la lama nella mia stessa carne il sangue scorre e lo raccolgo in un catino per usarlo come colore oh il sangue è una bellezza abbagliante il sangue racconta la carne la carne richiama il sangue meraviglioso sarà un capolavoro come potete vedere la mia stanza è piena zeppa di questi dipinti d'inferno grazie a loro posso vivere sempre immerso nell'odore inebriante del sangue ne ho appena iniziato uno enorme sarà l'opera più importante della mia vita la visione d'inferno definitiva rappresenterà la fine del mondo è ancora incompleto ma ho adottato una tecnica rivoluzionaria che consiste in una monocromia in cui l'unico colore è il rosso del sangue per portarlo a termine ultimamente ogni mattina al risveglio bevo dell'acido cloridico per vomitare sangue perché me ne serve molto ora vorrei raccontarti dei dipinti d'inferno che ho realizzato finora per primo quello che raffigura la ghigliottina che si erge di fronte a casa mia e così via ecco queste sono le prime tre o quattro pagine di questo meraviglioso volume ed esattamente come il protagonista ci dice ci racconta che vuole dipingere il suo quadro definitivo allo stesso modo ino voleva porre fine alla sua carriera con questo manga definitivo il volume è pieno zeppo di riferimenti autobiografici che donano un retrogusto amaro ma molto più appagante rispetto alle altre letture questi riferimenti autobiografici creano quel piccolo gancio con la realtà che rendono ancora più affascinante il tutto il pittore ci tiene a raccontarti la sua vita innanzitutto quindi dove vive l'ambientazione che circonda la sua casa e ci parla direttamente ci parla rompendo la quarta parete successivamente conosciamo la figlia e il figlio del pittore poi il momento della moglie dopo ancora del nonno uno yakuza esattamente come il nonno di ino un capitolo veramente meraviglioso infine conosciamo il papà e la mamma del pittore con un capitolo tremendo che il mangaka non ha mai dichiarato esplicitamente quanto fosse autobiografico e quanto invece non lo fosse una storia crudele violenta ogni capitolo sembra ripetere sempre lo stesso modus operandi già descritto in precedenza ma effettivamente tutto è declinato in una versione definitiva con un finale meraviglioso finale che all'epoca scatenò il terrore nei lettori giapponesi che iniziarono a chiamare in redazione chiedendo di essere salvati dalla maledizione che il protagonista ha scagliato su di loro in realtà non è esattamente così ma dovrei spoilerarvi completamente il finale quindi preferisco non farlo nel dicembre del 1982 è l'ora di el baby pubblicato dalla casa editrice kosaido una notte una mamma dalla luce due gemelle una di queste è però il solito personaggio principale di ino e quindi è ripugnante e deforme il papà tenta quindi di liberarsene abbandonandola ma quella bambina tornerà e griderà vendetta anche in questo caso è tutto uguale a quello che abbiamo già raccontato anche se il finale ha una sfumatura leggermente diversa dal solito la storia come sempre è molto semplice abbiamo di nuovo abbandonato la ricerca di una raffinatezza superiore che si intravedeva invece in visione d'inferno la protagonista impietosisce e quasi si fa il tifo per lei non parla e quindi nuovamente viene usato un narratore esterno la lettura scorre tranquilla senza effettivamente creare in me quella sensazione orrorifica che forse vorrebbe invece trasmettere arriviamo alla sesta opera red snake pubblicato da iberi sciobo nel maggio del 1983 un ragazzo vive in una casa tipicamente giapponese immersa in una foresta insieme alla sua famiglia buona parte dell'edificio è inaccessibile e quando il ragazzo prova ad allontanarsi dall'ovile qualcosa di sinistro lo riporta sempre al punto di partenza la storia si trasforma in una scusa per raccontare tutti i tormenti e le depravazioni dei componenti della famiglia uno dopo l'altro ci vengono presentati e ci non ridiscono esattamente come un po è accaduto in visione d'inferno questo volume unico è forse uno dei più significativi anche se allo stesso tempo è uno dei più lontani dal mio gusto cosa lo contraddistingue dal resto della produzione innanzitutto il finale tarantiniano già citato parecchie volte qui prende completamente il sopravvento e occupa tutta la seconda metà del volume in un loop infinito di violenza e disgusto questo di conseguenza aumenta di smisura la dose di splatter inoltre questo qui è un volume dove si nota forse per la prima volta tra i volumi arrivati in italia un'attenzione spiccata per l'horror e ruguro la parte erotica riguarda in realtà un solo elemento della famiglia ma sicuramente risalta maggior ragione avendo già letto anche tutte le altre sue opere cioè si capisce che questo è un elemento diverso dal solito è una deviazione evidente rispetto allo standard dell'autore qui inoltre il narratore sembra ino stesso durante la sua infanzia è la sua visione della sua famiglia strampalata e insomma è sempre un po difficile da accettare e da capire quanto ci sia di autobiografico e quanto no il finale per quanto prevedibile è in pieno stile horror e dona un po di angoscia in più al racconto arriviamo al settimo volume si tratta di living corpse luglio 1986 ripusciobo gli anni a cavallo della pubblicazione di visione di inferno e immediatamente successivi sono stati difficilissimi per il mangaka pochi guadagni una moglie ed un figlio di cui prendersi cura la salute che lo ha abbandonato a caso del troppo lavoro e l'alcolismo che ormai ha preso il sopravvento ed ecco che anche in questo caso nasce una storia sulla base di una vicenda personale vi leggo le primissime pagine di quest'opera dannazione oramai il mio corpo si sta letteralmente disfacendo le carni si fanno tutte marce le ossa si stanno spaccando il mio animo si disperde come nebbia in tutte le direzioni ah il mio corpo è in putrefazione no non voglio decompormi in questa maniera lasciatemi almeno lasciatemi almeno vedere mia moglie mio figlio mio padre mia madre voglio incontrare anche i miei amici ma è impossibile in questo stato o buon dio non puoi proprio perdonarmi dio dico a te rispondimi per favore rispondimi e così inizia living corpse di ideshino anche in questo caso il protagonista principale è quindi un cadavere che cammina ma in questa storia è un uomo adulto non più un bambino una cosa molto particolare sta marcendo perde pezzi è in putrefazione e i vermi proliferano al suo interno yosuke il protagonista ha perso inoltre la memoria chi era aveva una famiglia mentre cerca queste risposte viene catturato dalla polizia e poi dato in affidamento ai medici che iniziano ad interrogarsi sulla sua esistenza e lo trasformano in una specie di cavia da laboratorio qui partono tutta una serie di scene horror legate all'accanimento terapeutico forse anche in questo caso è un riferimento autobiografico alla macabra vicenda che ha coinvolto il fratello dell'autore la storia mi è sembrata più soft dal punto di vista splatter bel finale evocativo addirittura mi è sembrato pieno d'amore e di speranza e forse pacifico è un finale quindi diverso dal solito che in alcune scene però mi ha ricordato proprio come diciamo inquadrature come immagini che ci vengono mostrate mi ha ricordato quello di bug boy è stato devo dire un bel volume questo living corpse passiamo ora all'ottavo volume la donna delle nevi e altri racconti del terrore è una raccolta di sei storie brevi pubblicate per la prima volta dai bari sciobo nel 1987 essendo una raccolta probabilmente i capitoli che la compongono sono stati pubblicati in momenti diversi in precedenza rispetto al 1987 ma ho pensato che comunque questo fosse il momento adatto in cui parlare di questo volume come avrete già capito se siete arrivati fino a qui la struttura delle storie di desciino è molto ripetitiva cambiano delle sfumature ma il succo rimane sempre lo stesso e infatti questo dovrebbe porre tanti dubbi nei lettori cioè per conoscere questo autore non c'è bisogno di recuperare tutti i volumi che sono usciti in italia o che usciranno in italia perché secondo me con pochi volumi capito un po qual è il suo modo di sceneggiare e se vi piace ovviamente la follia allora sì ha senso approfondire e conoscerlo a 360 gradi ma se volete solamente capire avere nella vostra libreria un caposaldo del genere horror giapponese allora vi basta poco per capire chi era ed è shino la donna delle nevi è però molto diverso tutte le storie sono legate al folklore giapponese e sono adattamenti di fiabe rurali che vedono coinvolti alcuni yokai inoltre esattamente come il volume black cat era l'adattamento di ino del romanzo io sono un gatto di natsume soseki libro che ha ricevuto anche un altro adattamento manga arrivato sempre in italia e pubblicato da edizioni lindau anche questa raccolta cioè la donna delle nevi contiene l'adattamento manga di un romanzo molto conosciuto ma che mea culpa io non conoscevo il capitolo infatti la donna delle nevi e shoku jinki il fantasma mangiatore di cadaveri sono entrambi tratti dalla raccolta di racconti quaidan storie di spettri giapponesi del 1904 di l'afcadio urn il volume è in assoluto quello più tranquillo più accessibile se lo splatter vi respinge le tavole violente sono ridotte veramente all'osso e tutto invece è incentrato sui vari yokai e le loro caratteristiche mai avrei pensato di dirlo ma proprio io che solitamente non adoro la violenza successiva durante questa lettura ho rimpianto lino nella sua versione classica il tratto è più docile le storie se possibile sono ancora più semplici ed infine non è neanche divertente come le altre opere a mio parere forse qualcuno potrebbe considerare queste storie più eleganti del solito e forse avrebbe anche una qualche ragione ma detto questo è stato sicuramente uno dei volumi più interessanti se volete scoprire aspetti diversi di questo autore siamo arrivati al nonno volume che in realtà è una serie di due volumi primo esempio arrivato in italia di un'opera di ino non pubblicata in un volume unico si tratta di onimbo che è stato pubblicato in giappone tra 1987 e l'88 da ripusciobo qui torniamo più vicini all'ideascino classico abbiamo un bambino con dei poteri magici in realtà non è proprio un bambino ma insomma lo scoprirete che si ciba di insetti infernali gli insetti infernali si trovano all'interno delle persone e si ingrandiscono all'interno di queste nutriendosi delle loro paure onimbo è un grande divoratore di insetti infernali e da loro la caccia cibandosi onimbo libera anche l'essere umano di turno dagli incubi che lo attanagliavano onimbo sembra quindi un personaggio malefico in un primo momento perché gode nel vedere la paura altrui ma allo stesso tempo nutrendosi in modo egoistico sicuramente non per altruismo sembra poi un personaggio salvatore degli umani che vengono dannati da questi incubi ogni capitolo racconta le vicende di una persona diversa onimbo si imbatte in questa persona per strada capisce riconosce che un insetto infernale si nasconde dentro questa persona indaga sui motivi di queste paure che impediscono la persona di turno di vivere serenamente aspetta che questo insetto infernale cresca al punto giusto nutrendosi dei tormenti della persona ed infine libera lo sfortunato di turno pappandosi l'insetto infernale questo accade capitolo dopo capitolo per ben due volumi ecco questa ripetitività prolungata non mi ha soddisfatto e mi aspettavo almeno un finale con uno spunto in più invece non è così i capitoli sono molto giocosi ed ancora più evidentemente dedicati ad un pubblico di giovanissimissimi a mio parere è forse la serie più trascurabile nonostante sia la più corposa proviamo quindi a trarre qualche conclusione allora non sono un amante del genere e questo ve l'ho già detto anche all'inizio di questo volume oltre che in precedenza in altri racconti sempre qui su questo canale continuo ad aver bisogno di un aggancio evidente alla realtà per poter essere coinvolto emotivamente al 100 per cento così come accade poi nei capitoli evidentemente molto autobiografici dove si parla di manciuria bomba atomica e famiglia se io però fossi completamente all'oscuro di tutte le sue esperienze di vita della sua biografia quanto riuscirei a farmi coinvolgere da queste storie io non lo so perché io non credo di essere talmente malato da poter riconoscere degli spunti autobiografici senza prima aver letto qualcosa della biografia di quest'autore cioè io leggo visione d'inferro leggo red snake ma mai penserei che insomma ci siano degli spunti autobiografici al loro interno e quindi perderei tutta quella parte che in realtà dona tantissimo sale a questo racconto a mio parere per poter registrare questa puntata ho dovuto rileggere e rileggere questo volumi anche tre volte perché purtroppo non sono riuscito a registrarla e a scriverla in tempi brevi e quindi nel frattempo erano passati dei mesi ogni volta dovevo rileggere per sapevi raccontare qualcosa su queste opere ad ogni giro il piacere della lettura è stato incredibilmente sempre maggiore perché provo a dare una spiegazione all'inizio cercavo qualcosa di ricercato raffinato ma questo non è ino cercavo un horror che mi facesse provare paura ma ino più che altro provoca disgusto che non è esattamente la stessa identica cosa ed inoltre in tante occasioni le sue stranezze mi fanno ridere cercavo poi manga complessi con substrati di sottotesti ma questi non sono i manga di ino cercavo manga visivamente ammalianti come quelli di maruo ma questi non sono i manga di ino cercavo manga horror psicologicamente intriganti come quelli di umezu ma questi non sono i manga di ino cercavo manga horror con trame ricercate e per adulti ma ovviamente questi non sono i manga di ino una volta effettuata la prima lettura è come se io mi fossi arreso cioè è inevitabile da quel momento in poi non sperare più di incrociare i propri passi con una delle caratteristiche appena descritte perché ino non è così ino è azione violenza splatter è semplicità è essenzialità è illogicità è un pizzico di pazzia è un insieme di manga evidentemente pensati per un pubblico di giovanissimi nella maggior parte dei casi e inoltre è un insieme di storie che hanno tanto fan service come ino stesso racconta sceso quindi a compromessi con la realtà le riletture sono quindi state vissute come degli scacciapensieri molto divertenti che alcune volte ti fanno ripensare a qualche paura esistenziale naturale insita nell'uomo uno dei fattori più sorprendenti è la sceneggiatura quante volte ci è capitato di leggere manga anni 70 e anni 80 con un equilibrio tra testo e disegno tra didascalia e azione tra spiegazione testuale e visione che è totalmente anacronistico rispetto ad oggi tantissime volte ma i manga di ino sono invece immediati frizzanti scorrevoli e non mostrano i segni del tempo salvo rarissimi casi dovuti ad un'eccessiva ingenuità ormai un po desueta in uno dei numeri della rivista bubbles che vi ho mostrato sul canale youtube possiamo trovare un'intervista a chi ha collaborato con blast books per portare le opere di ino all'epoca in america ormai stiamo parlando di oltre 30 anni fa da questa intervista col traduttore giapponese risulta chiarissimo come ino per noi occidentali sia considerato un cult un grande classico un grande autore horror ma in realtà questa è una distorsione occidentale perché in qualche maniera forse misterioso forse no le sue opere da storie per bambini giapponesi si sono trasformate in storie per adulti nel nostro mercato il dubbio che attanagliava il traduttore che ha collaborato con blast books era inoltre legato anche alle altre pubblicazioni manga della casa editrice come fanno ad accostare maruo con ino traduco pari pari quello che disse ino è sempre stato solamente uno di quei ragazzi spaventosi o sì io ero veramente spaventato dai suoi lavori quando avevo sei anni il suo disegno era grezzo piuttosto piatto le sue storie erano semplici dopo la scuola nessuno lo leggeva prendendolo seriamente è semplicemente qualcosa con cui si cresce ma è più dovuto ad un sentimento nostalgico e ancora il traduttore racconta di aver spifferato di questo progetto ad un amico che gli disse ino o quelle cose spaventose per ragazzini perché perché dovrebbe oh beh allora per il livello di sofisticazione americana forse ino è sul giusto livello di sviluppo insomma questo era un modo per denigrare secondo questo amico del traduttore il livello di conoscenza dei manga del pubblico americano dell'epoca che quindi non aveva bisogno di chissà quale sofisticazione e quindi ino che sofisticato non lo è andava benissimo ecco questa è la visione di un giapponese che ha collaborato per portare ino in occidente per la prima volta ed è anche la parziale visione di un conoscente di questo traduttore il nostro approccio invece è totalmente diverso e forse proprio per questo io in un primo momento sono caduto in inganno cercando delle cose che queste opere non potevano in realtà darmi volete assaggiare lati diversi di questo autore allora secondo me dovete buttarvi su la dora delle nevi e il baby red snake e visione di inferno queste quattro opere su mi pare nove che sono state pubblicate in italia vanno già benissimo per capire ino dovreste avere in questo modo veramente un quadro abbastanza completo di quello che almeno è arrivato da noi tolto il capolavoro di ino visione di inferno i volumi che più mi sono piaciuti quindi adesso parlo molto personalmente sono black cat e a seguire living corpse e del baby ma è veramente difficile scegliere perché sono simili fra loro non vi consiglio però di iniziare direttamente con visione di inferno forse è meglio prima capire qual è la produzione standard di ino e poi approcciare a quello che doveva essere la sua visione definitiva del manga ultimamente ino ha ritrovato un po di notorietà grazie alle pubblicazioni estere grazie al successo di alcune storielle che ha raccontato attraverso dei pupazzetti via twitter ed anche grazie al contributo dei suoi studenti dopo tanti anni di onorata carriera sembra che sia più attratto dai libri illustrati rispetto ai manga nel 2019 grazie ai suoi studenti è stata fondata anche la ino production il suo primo studio all'età di ben 73 anni cosa ha fatto e cosa farà con questo studio non lo so lo scopriremo siamo arrivati alla conclusione di questo racconto dove volutamente ho lasciato perdere tutta la carriera di ed escino come regista di live action fatemi sapere voi cosa ne pensate di decino fatemi sapere se come me avete avuto in un primo momento anche qualche difficoltà nell'approcciarvi a questo autore a questo genere di opere fatemi sapere infine cosa vi è piaciuto di questa produzione ormai enorme che è arrivata in italia di questo autore insomma ditemi qual è la vostra opinione ci vediamo sempre qui su fumetterino nero e alla prossima puntata del podcast su spotify spreaker e youtube a presto